Incappucciato ha aggredito una giovane aretina e le ha strappato il cellulare. È successo nella notte tra venerdì e sabato attorno alle 23 e 30 all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Piave. Ci troviamo a Saione, quartiere alle porte di Arezzo. L'uomo approfittando della piena oscurità ha sorpreso la giovane mentre era al telefono, strappandole con forza lo smartphone dal valore di 400 euro. Il malvivente è poi scappato correndo verso Campo di Marte. L'episodio è avvenuto poco lontano dalla casa della ragazza, una 23enne di Saione. Lo scippatore è agito a volto coperto grazie al cappuccio della pelpa calato in testa. Il furto costrappo ha causato alla ragazza una ferita alla mano. È stata così soccorsa immediatamente da alcuni presenti allarmati per la vista del sangue. La ragazza non è però risultata ferita gravemente. Non è stato infatti necessario l'intervento dei sanitari del 118. Il malvivente nel frattempo è riuscito a darsi alla fuga, correndo verso Campo di Marte, sia così dileguata attraverso la galleria della farmacia comunale e di lui si sono perse le tracce. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Arezzo. Sono stati così ascoltati alcuni testimoni che hanno raccontato dettagli che potranno essere utili per l'identificazione dello scippatore. Tra questi anche una guardia giurata. Sono state infine acquisite le immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Arezzo, immagini che potrebbero essere di ulteriore aiuto ai poliziotti nelle indagini.